Il mio progetto di ricerca si occupa di valutare un programma di mentoring scolastico. Il mentoring è una forma di intervento psicosociale in cui viene affiancato un mentore, che è un adulto volontario che viene formato ad hoc, con dei bambini o degli adolescenti o dei preadolescenti che presentano delle vulnerabilità da un punto di vista psicosociale o relazionale. Per esempio fanno fatica a stare con i compagni o per esempio fanno fatica a relazionarsi con quelle che sono le figure adulte di riferimento, gli insegnanti in primis ma anche gli altri educatori. Da un punto di vista del disegno di ricerca questo studio si basa su quelli che sono gli approcci della ricercazione partecipata, che significa che gli stakeholder, in questo caso lo staff del programma e gli insegnanti, sono considerati dei co-ricercatori. Co-ricercatori significa che partecipano appunto a quelle che sono la definizione del disegno di ricerca e degli strumenti di misura. In questo caso abbiamo con loro sviluppato un impianto di ricerca che prevede un disegno longitudinale, per cui seguiamo queste relazioni mentore-telema con questi bambini appunto che partecipano al programma nel tempo, per due anni, con delle misurazioni di quelli che sono gli indicatori di funzionamento psicosociale, appunto lo stare a scuola, lo stare con i compagni e relazionarsi con gli adulti. Quello che mi piace di più del mio lavoro è quello di poter lavorare insieme ad altri in ottica sia interdisciplinare, che significa il saper lavorare, il poter lavorare con altre professioni, come sono per esempio gli insegnanti, gli educatori e altre figure professionali con cui gli psicologi lavorano e collaborano quotidianamente. E lavorare anche con loro in ottica partecipata, che significa appunto in un rapporto di natura paritaria in cui si collabora per il raggiungimento degli obiettivi in comune.